Occhio! La gente non vuole... Non so che combini, ma è venuto due cazzi in palestra. Era incazzato nero. Cosa ha detto? Se l'è presa con uno dei lottatori. Ha tirato fuori la pistola, la sventolata in giro. Ha detto che uno dei suoi sarebbe tornato al Wilcox Salon. Tu vai avanti e continua ad allenarti per l'incontro. A quello stronzo ci penso io. Mi serve un mezzo a South Downs. Ci penso io, ragazzo. La sto solo facendo scaldare. Sono quasi a secco. Mandate qualcuno a South Downs. Vengo dalle tue parti ora. Ecco un'auto. Grazie mille. Vedi qualcosa che ti serve? Fammi vedere la merce. Ora, grazie mille. Cosa, trazie mille. Grazie a tutti. 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 Qualcuno può occuparsi di un bersaglio a South Downs. Ricevuto. Arriviamo fra poco. È qui! Resistete! È quasi fatta! Ultimamente tutti hanno paura di tutto. Vieni fuori e finiamola subito! Non siamo immortali, cazzo! Come ti senti, stronzo? È fatto! È qui! Raffiniti! I rincoglioniti crepano per primi! Non ci ha dato qui! Non hai scampo! Non posso muovermi! C'è un altro uomo in te! Vi eliminate questo! Io? Va bene! Ho trovato uno, gente! Diablo, stiamo sentrando! Granata, vieni qui! Granata! Fermate! Portatevi all'ospedale, cazzo! Portatevi all'ospedale, cazzo! Apro il fuoco! Ma lo sai da quanto tempo lavoro per i Marcano? Eh? Ok! Grazie! Ok, non ecco! Adonazione! Ah sei! Questa cazzo! Chegla! Questa- Questa cazzo! Questa è unica! Questa è unica! Questa è unica! Se voglio tenere South Downs mi servirà una mano Consideralo fatto, saranno lì in un baleno E ci vollero mesi per capire che Lincoln era sopravvissuto al massacro al bar di Semmy e stava facendo guerra a Salmarcano Il burro non aveva un dossier su Clay e io non sapevo del suo addestramento militare perché il suo stato di servizio era riservato Altrimenti avrei potuto cominciare a sospettare qualcosa dopo la morte di Richie Doucette Puoi rilassarti e goderti lo spettacolo Me l'ha solo fatta sotto Via tutti Questa è la sua Questa è la sua Questa è la sua Questa è la sua Ciao, Giovan. Sei Purdue? Grant Purdue. Ti piace il posto? Pensavo di... Sì. Quindi, com'è che sei invischiato con l'organizzazione di Marcano? Senti, io possiedo e gestisco grandi magazzini. Con questa economia, diciamo, ho dell'inventario in eccesso. Vestiti, apparecchi elettronici, un po' di tutto. Un vecchio amico, Artie Higgins, mi ha detto, Grant, è tutto assicurato, lascia che ti alleggerisca io. Quindi ti sei lasciato derubare? I miei camion, sì. Doveva essere un affare una tanto, ma guarda, Artie non la smette. Non posso andarci di mezzo io. Dove li porta i camion, Artie? Non me l'ha mai detto. L'ultima volta che abbiamo parlato, ho avuto l'impressione che li avrebbe scaricati su qualcun altro, come un... ricettatore. Grant, se trovo la tua roba, è facile che finisca in fiamme. Fai tutto quello che devi per fermare Artie. La mia maledetta assicurazione mi ha mollato. Ha detto che sono ad alto rischio. Da non crederci. Se mi porti quel camion, ci sono dei soldi per te. Artie ha messo degli uomini al lavoro intorno a South Downs. Tutti ladri. Vedo cosa riesco a scoprire. Nel frattempo, tu non farti vedere in giro. Davvero che dovresti scoprire cosa sanno dei miei camion gli uomini di Artie? Allora, la mia maledetta assicurazione. C'è gente che fa la fila per prenderseli. Non mi sembra un prezzo onesto. Quit. La c'è qualcosa. Andiamo. E' stato lui, addosso! Cerchiamo da un'altra parte. Ehi, fratello! Ehi, amico! Basta con questa merda. Ehi, amico! Sì, sì... Andiamo via da qui! Ehi, amico! Andiamo sotto! Andiamo! 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 Andiamo!